Bentornati in questo nuovo appuntamento con CELTSBOOK Parti alla scoperta di te stesso in questo coinvolgente viaggio narrato nel libro di Pino Cacucci La polvere del Messico Questo libro ti condurrà attraverso le strade del Messico alla scoperta della tua identità e del tuo passato Esplora temi universali come la solitudine, la ricerca di sé e la scoperta di nuove culture in questa emozionante e intensa avventura letteraria Preparati a vivere un'esperienza unica e indimenticabile Per la medicina cinese, giapponese e tibetana il corpo umano possiede un sistema di molteplici linee e punti energetici che in uno stato di salute normale sono in equilibrio Nel caso queste si sbilancino, si potrebbero creare delle patologie Con il libro Cromoterapia, l'uso dei colori per la cura del corpo e della psiche l'autrice vuole indicarci la via per poter integrare i colori e i loro significati nella nostra vita per favorire l'equilibrio, la calma e il benessere fisico Il Parassita è un romanzo breve di Arthur Conan Doyle creatore del celebre personaggio di Sherlock Holmes scritto in forma di diario in cui si narrano le vicende del professor Austin giovane e brillante docente universitario totalmente devoto al metodo scientifico e alla razionalità nonostante una carriera ben avviata e un matrimonio imminente con la bellissima Agatha egli si lascia trascinare in un mondo misterioso e oscuro quello del mesmerismo e della suggestione ipnotica Il professor Gilroy annota coscienziosamente ogni avvenimento e sensazione accorgendosi troppo tardi del pericolo che incombe su di lui E questi erano i tre libri per questa settimana Noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo appuntamento Ciao!